direttamente dalla storica sala dei monopoli di stato di piazza mastai in roma questa è l'estrazione di super enalotto buonasera e benvenuti all'appuntamento con l'estrazione del super enalotto prima di procedere con l'estrazione vi ricordo l'incredibile iniziativa la febbre del sabato convalidando una giocata super enalotto con superstar valida per i concorsi di sabato 5 12 19 26 ottobre troverete sulla ricevuta di gioco i codici alfanumerici per partecipare alla ricca estrazione di ben 100 premi garantiti da 10.000 euro per ciascun concorso ed ora andiamo a scoprire quale cifra ha raggiunto il jackpot oggi martedì primo ottobre 10 milioni 803 mila 968 euro le 90 sfere numerate sono state caricate nella prima urna e con l'autorizzazione della commissione di controllo diamo ora il via all'estrazione del concorso numero 118 inizia il mescolamento automatico delle sfere stiamo per scoprire i sei numeri vincenti più il numero jolly tenete strette le vostre ricevute è in arrivo il primo numero il primo numero estratto è il numero 59 siamo al secondo numero e con super enalotto si inizia già a vincere il secondo numero estratto è il numero 73 il terzo numero sta arrivando il terzo numero estratto è il numero 84 pronti per il quarto numero il quarto numero estratto è il numero 11 adesso scopriamo il quinto numero che apre le porte alle grandi vincite il quinto numero estratto è il numero 89 è il momento di incrociare le dita stiamo per completare la sestina vincente il sesto numero estratto è il numero 63 dopo i sei numeri che assegnano il jackpot passiamo ora all'estrazione del numero jolly vi ricordo che indovinando questo numero insieme a 5 numeri della sestina vincente potrete realizzare la grande vincita del 5 più 1 il numero jolly di questa sera è il numero 62 controlliamo insieme la sestina vincente in ordine di estrazione del numero jolly 59 73 84 11 89 63 numero jolly 62 ed ora passiamo al numero superstar superstar è il numero che ciascuno di voi può scegliere o che viene assegnato casualmente al momento della giocata la sua estrazione avviene grazie a questa seconda urna elettronica caricata con le spere da 1 a 90 procediamo con l'ultima estrazione di questa sera vi ricordo che indovinando il numero superstar si vince sempre superstar moltiplica le vincite superenalotto fino a 100 volte e premi anche lo 0 e l'1 le spere stanno ruotando nell'urna pronti il numero superstar di questa sera è il numero 27 ricontrolliamo tutti i numeri strati del concorso numero 118 in ordine crescente 11 59 63 73 84 89 numero jolly 62 numero superstar 27 l'estrazione di oggi martedì primo ottobre termina qui diamo il tempo di verificare tutte le giocate ci rivediamo tra poco per scoprire se il jackpot di oltre 10 milioni 800 mila euro è stato centrato da qualche fortunato giocatore ben ritrovati poco fa abbiamo estratto i numeri vincenti del concorso numero 118 siete pronti a scoprire le vincite di questa sera questa estrazione del superenalotto assegna 388 mila 103 vincite vi ricordo che il jackpot in palio di oltre 10 milioni 800 mila euro sarà stato centrato il 6 questa sera il 6 di superenalotto non è stato realizzato e jackpot cresce ancora per arrivare a 11 milioni 900 mila euro vediamo adesso nel dettaglio tutte le vincite le relative quote nessun 6 nessun 5 più 1 i 5 sono 6 vincono 31.746 euro ciascuno i 4 sono 526 vincono 422 euro ciascuno i 3 sono 19.638 e vincono 31 euro ciascuno i due sono 318.841 e vincono 5 euro ciascuno ed in questo concorso sono state assegnate ben 14.067 vincite immediate del valore di 25 euro ciascuno scopriamo adesso insieme vincite e premi superstar nessun 5 stella i 4 stella sono 7 e vincono 42.291 euro ciascuno i 3 stella sono 134 e vincono 3.118 euro ciascuno 100 euro vanno invece ai 2.199 2 stella 10 euro ai 14.517 1 stella e 5 euro ai 32.235 0 stella vi ringrazio per essere stati con noi superando all'otto vi dà appuntamento a giovedì 3 ottobre giocheremo per un jackpot di 11.900.000 euro arrivederci grazie a tutti Grazie a tutti.